Rai 2 offre ogni mercoledì ad una famiglia italiana una grande occasione. Mettere d'accordo appunto la borsa con la vita. Sì, perché il nostro gioco spettacolo è proprio come il gioco della vita. Conoscete i botti, i cct, le azioni, i fondi di investimento? Sapete come far fruttare il denaro e scegliere le assicurazioni giuste per voi? Attenzione allora, arriva per voi! Una grande occasione ogni mercoledì su Rai 2 alle 20.30. Una famiglia come la vostra può diventare miliardaria con il miliardo offerto dai nostri sponsor. Una grande occasione, un nuovo gioco spettacolo che mette d'accordo finalmente la borsa e la vita. Imparando anche molte cose che servono, parola mia. Una grande occasione, mercoledì 20.30, Rai 2.